Oh, no, 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 in realtà, non volevo dire questo... Mi... Cosa? Mi... Non riusciamo a capire. No, sto cercando di dire che mi dispiace, d'accordo! Mi dispiace di avervi nominato il gioco, mi dispiace di aver pensato di essere meglio di voi! Ora giochiamo prima che questa serata diventi ancora più melezza! Eh? Bene? Bene, ok! Perché non dimentichiamo il tabellone e le pedine? Insomma, la tua trovata del gioco che prende vita è stata terrificante, ma anche assolutamente fantastica! Quindi, io e Big Mac ci chiedevamo, che ne diresti di alleggerirla solo un pochino? Ti copro le spalle, Capitan Coso! Oh, no, 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 no Sarà meglio andarsene e lasciare che finiscano quello che stanno facendo, qualunque cosa sia Non se ne parla, avete notato la spada di Big Mac? Voglio assolutamente giocare anch'io Sì, non so che stanno facendo, però mi sembra super divertente Serata dei ragazzi Grazie